Grazie. 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 Intanto siamo felici di tornare a ESC che riaprirà con l'inaugurazione il prossimo 6 aprile. Questa è la prova generale. Oggi siamo qua con Paolo Virno che immagino che qua dentro non ha bisogno di grandi presentazioni. Solo qua dentro. L'incontro di oggi è dedicato a rapporto tra etos e proprietà. In generale tema non facile, non facilmente definibile e perimetrabile. Paolo si occuperà di più di approfondire la questione del comune, mentre io mi leviterò a leggere alcuni passi e commentarli tratti da un saggio di Marx, un piccolo saggio contenuto nei Grundrisse. Un saggio sulle forme economiche precapitalistiche. Perché ho scelto questo saggio? Perché se la questione del comune resta sotto traccia, come un po' in tutta l'opera di Marx, lì dentro si vede bene invece quale può essere un rapporto tra forme produttive, socio-economiche, quindi forme della proprietà, perché stiamo parlando poi di un contesto precapitalistico in cui la produzione si definisce soprattutto attraverso i rapporti proprietari. E d'altro lato invece forme socio-culturali, forme della percezione di sé, della definizione del costituirsi dell'individualità e della sfera sociale in generale. Appunto, in questo saggio emerge molto bene quello che è il metodo del materialismo storico e secondo me è molto utile anche per scalzare una vulgata che si può riferire più al marxismo ortodosso piuttosto che al pensiero di Marx, che è quella che struttura il pensiero di Marx attraverso la distinzione tra struttura e sovrastruttura. Qua vediamo che i diversi ambiti, quello produttivo, economico, delle forme proprietarie e l'ambito invece socio-culturale, sono assolutamente concatenati, si compenetrano e formano un tutto unico che poi Marx va a analizzare con un metodo storico assolutamente innovativo per l'epoca perché si tratta sostanzialmente di qualcosa che sta su una linea di confine fra una storia culturale e una storia economica che anticipa per buona parte quelli che saranno comunque sviluppi propri dell'antropologia novecentesca. In questo saggio Marx analizza varie forme produttive precapitalistiche, la comunità primitiva asiatica, la comunità antica che è ricaricata sul mondo romano, la comunità germanica e la comunità slava. Io mi concentrerò soprattutto sulle prime due. Per quanto riguarda la comunità asiatica, diciamo che questa è un po' la forma economica in cui non sono definiti veri e propri rapporti proprietari. è caratterizzata dal ricambio organico diretto con la natura e la proprietà privata ancora non esiste come esperienza. O meglio, può esistere proprio come proprietà comune se vogliamo, però quello che succede è che gli individui non sono separati né lavorando né consumando e quindi c'è un ricambio diretto e organico con la terra che quindi è l'elemento produttivo primario e anche viene elevata spesso nelle culture che Marx la chiama la comunità asiatica ma la comunità primitiva in generale, che è rintracciabile tanto in Asia quanto nel Sud America o chiaramente in altre zone del mondo. Però diciamo che è caratterizzata proprio da questo continuo ricambio organico con la natura. Adesso, la cosa interessante proprio di questa forma di proprietà comune è che contiene in sé una forte ambivalenza. Da una parte si può determinare come dispotismo orientale laddove il meccanismo della terra viene assunto a forte trascendenza rispetto ai rapporti produttivi e questo è quello che legittima in qualche modo la modalità dispotica di appropriazione del sovrano rispetto a una comunità in cui non vigono le forme proprietarie. Per spiegare meglio questo punto leggo direttamente un passo di Marx. Nell'ambito stesso del dispotismo orientale, nell'assenza di proprietà che giuridicamente sembra caratterizzarlo in realtà esiste alla base questa proprietà tribale o comunitaria prodotta per lo più mediante una combinazione di manifattura e agricoltura all'interno della piccola comunità la quale in tal modo diviene assolutamente self-sustaining, inglesismo di Marx, autosufficiente e contiene in sé tutte le condizioni della riproduzione e della produzione eccedente. Una parte del suo plus lavoro appartiene alla comunità superiore che esiste come persona e questo plus lavoro si manifesta sia sotto forma di tributi eccetera sia sotto forma di lavori collettivi a glorificazione dell'unità e cioè in parte del despota reale, in parte del sistema tribale idealizzato, ossia del dio un dio che qua ha molto a che fare con la terra come risorsa produttiva d'altra parte Marx però delinea anche un'altra possibilità per questa comunità primitiva e cioè che il lavoro si spinga, questa comunità, verso una collettivizzazione molto forte del lavoro e quindi diciamo che c'è questa ambivalenza dove se va a predominare un principio della terra trascendente il despota riesce ad appropriarsi tutto il plus lavoro mentre se il principio del lavoro collettivo è quello che si trova ad essere dominante e quindi di una produzione completamente immanente si hanno delle forme quasi pre-comunistiche direi che Marx individua anche come interessanti nel testo. Passo adesso un attimo alla comunità antica, poi parlerò di come si passa da una all'altra che poi è il punto interessante. Questa seconda forma descritta da Marx è caratterizzata dalla centralità che viene ad assumere la vita urbana, appunto cittadina con le corrispondenti forme di proprietà accanto a quello che è l'ager publicus romano cioè comunque la proprietà comune, il territorio comune che poi diventerà appannaggio principalmente della plebe si costituiscono, si instaura la vera e propria proprietà privata su base naturalmente familiare. La terra passa da principio sostanziale, appunto unitario e fondamentale di tutta la produzione diviene effettivamente mezzo di lavoro cioè quello che poi Marx tratterà come materiale che viene trasformato attraverso il lavoro dell'uomo e la difesa del territorio, della città in questo caso diviene assolutamente fondamentale e per questo questa forma è spesso legata poi a forme di vita militari sostanzialmente, qua nascono gli eserciti organizzati come vedete di nuovo qua torna il rapporto tra una trasformazione della forma proprietaria e una trasformazione della forma di vita complessiva io ho tradotto poi ethos un po' in questo senso qua cambia la proprietà, viene instaurata la proprietà privata vi sono accanto a questa trasformazione tutta una serie di passaggi tra cui ad esempio il militarismo proprio di questo tipo di società ma anche qua vado a leggere dei passi ad esempio su come si trasforma anche rispetto alla forma precedente la continuità della comunità risiede nella riproduzione di tutti i suoi membri quindi come uguaglianza anche formale in quanto contadini economicamente autosufficienti il cui tempo eccedente appartiene alla comunità ed è dedicato all'attività bellica la proprietà del proprio lavoro è mediata dalla proprietà della comunità mentre questa a sua volta è garantita dal lavoro eccedente prestato dai membri della comunità sotto forma di servizio militare questo è semplicemente un altro passaggio rispetto a quello che stavo spiegando adesso facendo una somma delle cose che abbiamo visto cito un altro passo di Marx per guidarmi in entrambe le forme il lavoratore è in rapporto di proprietà con le condizioni oggettive del suo lavoro naturalmente questa è la caratteristica fondamentale che distinguerà tutte queste forme da quella capitalistica voi sapete che a volte si sente dire che la proprietà privata nasce con il capitalismo diciamo a livello quando si riporta Marx nel senso comune in realtà non è in toto la proprietà privata a nascere con il capitalismo ma è la proprietà privata dei mezzi di produzione o anzi forse è meglio lo spogliarsi della proprietà delle condizioni oggettive del lavoro del lavoratore cioè la separazione tra il lavoro da una parte e i mezzi di produzione Marx dirà appunto che il lavoratore in questo appunto anche percettivamente non ha più un'esistenza oggettiva ma viene ad assumere una forma di vita esclusivamente soggettiva questo perché appunto i mezzi di lavoro non sono più in un legame in un collegamento organico con il lavoratore dicevo, torno al passo il lavoratore quindi ha un'esistenza oggettiva indipendentemente dal lavoro l'individuo si riferisce a se stesso come proprietario come padrone delle condizioni della sua esistenza effettiva egli si riferisce anche agli altri quindi qui una determinazione anche sociale di questa forma socio-economica si riferisce agli altri in quanto comproprietari ossia altrettante incarnazioni della proprietà comune oppure in quanto proprietari autonomi accanto a lui appunto nel primo caso comproprietari si tratta della comunità asiatica mentre proprietari autonomi accanto a lui della proprietà antica romana proprietari privati autonomi accanto ai quali la stessa proprietà comune che prima assorbiva tutto e tutti sovrastava è posta come ager publicus accanto ai molti proprietari fondiari privati adesso un punto interessante mi sembra proprio il passaggio che c'è tra una forma economica e l'altra che in questo caso viene tematizzato da Marx anche perché Marx si interroga anche in questo senso storicamente sui passaggi delle forme precapitalistiche perché chiaramente il suo interesse è capire come dalla condizione attuale capitalistica si possa produrre una fuoriuscita verso il comunismo in questo senso sono interessanti alcuni passaggi che fa rispetto a questa trasformazione intanto il ruolo della migrazione sostanzialmente per lui la comunità asiatica viene rotta dalle migrazioni che fanno emergere il ruolo dei singoli nel contesto comunitario questo è interessante perché tutto sommato io ci ho ritrovato molto anche Deleuze quando parla della nascita della proprietà privata come di una deterritorializzazione che è qualcosa di controintuitivo se vogliamo però qua è proprio reso molto concretamente da Marx dice quanto più la tribù si allontana dalla sua sede originaria e occupa territorio altrui e quindi si viene a trovare in condizioni di lavoro sostanzialmente nuove nelle quali si sviluppa di più l'energia del singolo tanto più sono date le condizioni per le quali il singolo diventa proprietario privato del territorio di una certa sua parcella la cui lavorazione particolare spetta a lui e alla sua famiglia questo passaggio molto concreto effettivamente costituirà comunque un nodo anche concettuale interessante da tematizzare dentro questo quadro naturalmente lui vede la forma asiatica in generale come quella più stabile perché poi storicamente quello che si determina è che questa forma considerata la più arcaica è anche quella che fino ai giorni in cui scrive Marx lui continua a ritrovare nel mondo mentre tutte le altre hanno subito tutta una serie di trasformazioni storiche peripezie, contingenze, ribaltamenti molto più dinamici e diciamo che in questa continuità della comunità asiatica in questa sua capacità di equilibrio, di stabilità Marx secondo me individua anche un potenziale interesse comunque lo tematizza in questo senso qui adesso invece un passaggio sulla rottura sulla rottura della forma produttiva antica propria di Roma con i suoi stessi principi cioè Marx individua una sorta di crisi endogena di tutte queste società e per Roma scrive questo dopo che la città di Roma fu costruita e le terre circostanti furono coltivate dai cittadini le condizioni della comunità erano diventate diverse rispetto a quelle precedenti lo scopo di tutte queste comunità è la conservazione ossia la riproduzione degli individui che la compongono come proprietari cioè in quello stesso modo di esistenza che costituisce al tempo stesso il rapporto reciproco fra i membri e quindi la comunità stessa questa riproduzione però al tempo stesso necessariamente nuova produzione e distruzione della vecchia forma ad esempio qui veniamo a Roma dove ciascuno degli individui deve possedere un certo numero di acri di terreno già lo sviluppo della popolazione rappresenta un ostacolo per aggirare questo ostacolo è necessaria allora la colonizzazione e questa rende necessaria la guerra di conquista di cui gli schiavi eccetera l'ingrandimento anche dell'ager publicus ad esempio e quindi i patrizi che rappresentano la comunità è scritto tutto in forma di appunti naturalmente come tutti i Grundrisse quindi magari alla lettura può sembrare un pochino macchinoso però cosa ci sta dicendo? ci sta dicendo che sostanzialmente si crea questa necessità della conquista per espandere una possibilità di uguaglianza formale per tutti i cittadini cioè che ogni cittadino romano abbia, ogni famiglia abbia il suo territorio per poter avere il proprio sostentamento autonomo questo meccanismo entra in crisi in senso endogeno semplicemente con l'aumentare la popolazione si producono le guerre di conquista e così però si produce la schiavitù quindi si mette fine sostanzialmente al principio stesso da cui prendeva le mosse la forma socio-economica romana dice Marx così la conservazione della vecchia comunità implica la distruzione delle condizioni sulle quali essa poggia e si rovescia nel suo contrario naturalmente per quanto riguarda il capitalismo il meccanismo dovrebbe essere semmai di segno differente però questo suo rovesciarsi nel suo contrario secondo me è tematizzato proprio in questo senso come si producono delle condizioni oggettive per cui una forma deve trapassare in un'altra forma quindi questo era un po' un excursus per quanto riguarda il passaggio tra le varie forme economiche pre-capitalistiche dopodiché io ho appuntato una carrellata di conclusioni semmai da commentare allora ve ne leggo una scusate prima faccio un accenno sulle altre due forme produttive c'è la forma produttiva germanica che è sostanzialmente caratterizzata da un prevalere della comunità sul singolo rispetto alla forma romana anche se questo prevalere si dà comunque in una forma di possesso privato suddiviso per famiglie però la comunità è ricomposta in modo più estrinseco e comunque è più permeante tutta la vita sociale per cui diciamo che la percezione è più quella del possesso privato piuttosto che della proprietà privata e dall'altra poi c'è la forma slava che ha alcuni tratti simili a quelli della comunità asiatica però insomma Marx qua la accenna soltanto però la riprenderà poi negli anni finali della sua vita proprio per pensare anche la possibilità del passaggio al comunismo in una forma che non è nel capitalismo avanzato perché comunque lui studiava le comunità contadine russe dell'epoca rintracciandoci buona parte appunto di buoni spunti diciamo per una costruzione di una società differente anche oltre la dinamica di sviluppo capitalistica ora appunto detto questo intanto mi sono appuntato una definizione di nuovo di proprietà allora originalmente dunque proprietà significa e così nella sua forma asiatica slava antica germanica rapporto del soggetto che lavora che produce o che si riproduce con le condizioni della sua produzione e riproduzione in quanto gli appartengono questa è la definizione che lui dà di proprietà e vabbè naturalmente come sto dicendo dall'inizio questo implica le forme che assume questa cosa qua determinano poi il contesto sociale che questo individuo si verrà a trovare inoltre mi sono appuntato un'altra cosa nell'atto della riproduzione stessa non si modificano solo le condizioni oggettive ad esempio il villaggio diviene città la boscaglia, terreno arrativo eccetera ma si modificano anche i produttori in quanto estrinsegano nuove qualità sviluppano e trasformano se stessi attraverso la produzione creano nuove forze e nuove concezioni nuovi tipi di relazioni nuovi bisogni ed un nuovo linguaggio qui sembra di sentire Paolo nel senso che c'è proprio un legame diretto no 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 infatti però c'è questo legame di cui già Marx comunque era consapevole tra appunto la dimensione anche affettiva socioculturale, percettiva e le forme del lavoro e della produzione un altro passo questo rapporto con il territorio, con la terra come proprietà dell'individuo che lavora è subito mediato dall'esistenza naturale storicamente più o meno sviluppata e modificata dell'individuo come membro di una comunità della sua esistenza naturale come membro di una tribù un individuo isolato potrebbe avere tanto poco la proprietà della terra quanto potrebbe parlare evidentemente qua c'è un riferimento anche alla storicità della formazione della proprietà e viene ricondotto poi con questo parallelismo proprietà privata, individuo sociale che si individualizza si isola progressivamente nello sviluppo storico tutt'al più potrebbe trarre da essa stiamo parlando della terra le sostanze di cui nutrirsi come fanno gli animali il rapporto con la terra come proprietà è sempre mediato dall'occupazione pacifica o violenta di un territorio da parte di una tribù della comunità in qualsiasi forma più o meno naturale oppure già storicamente più evoluta l'individuo non può qui mai presentarsi nell'isolamento in cui si presenta quale semplice lavoratore libero questa è poi la conclusione secondo me a cui arriva anche Marx attraverso questo saggio lui pensa questa genesi dell'esperienza della proprietà privata per arrivare anche a definire qual è la forma soggettiva che assume l'individuo dentro il capitalismo effettivamente lui vede il progressivo isolamento prodotto dalla socializzazione capitalistica come esito della progressiva astrazione della proprietà privata capitalistica se le condizioni oggettive del suo lavoro sono presupposte come condizioni che gli appartengono e gli stesso è soggettivamente presupposto come membro di una comunità attraverso la quale è immediato il suo rapporto con la terra va bene direi che può bastare mi interessava più che altro appunto inquadrare questa parola molto complessa che è l'ethos in un rapporto possibile con il tema che abbiamo cioè le forme della proprietà e poi adesso magari Paolo svilupperà meglio il tema della proprietà comune e soprattutto passo la parola a Paolo a me sembra che non c'è nessun concetto rilevante della teoria politica e se per questo forse neanche nessun concetto rilevante della filosofia che non tragga il suo significato proprio la sua pregnanza da un'esclusione ovvero da una opposizione a un altro concetto a un'altra costellazione teorica esclusione e opposizione e per altri versi che non tragga la sua pregnanza il suo significato da una complementarietà da un termine complementare questo vale per la parola chiave di cui ci occupiamo e che un poco semmai ci affligge in questo ciclo seminariale vale a dire il termine comune che cos'è comune cosa intendiamo per comune è una parola sciatta o comunque non degna di essere messa al centro della riflessione se non si compie anche nel suo caso questa duplice operazione opporla a e renderla complementare a alcuni alcuni che sono anche così i nostri amici i nostri interlocutori hanno pensato bene forse per fretta di opporre la nozione di comune pensate un po' a quella di pubblico secondo me questa è una scelta catastrofica che non porta da nessuna parte se si se si attinge il significato più radicale di pubblico esporsi alla presenza degli altri cominciare qualche cosa di nuovo se si ritorna ma perché mai dovremmo essercene staccati alla nozione radicale di pubblico niente più affine al termine comune del termine pubblico fatto salva l'avvertenza che però è stata fatta non sei mesi fa ma vent'anni fa che di pubblico oggi si trovano tracce solo al di fuori dell'organizzazione statale se pubblico non più statale se statale nulla più che ricordino e dimensione degna di essere chiamata per qualche verso pubblica fatta salva questa avvertenza è chiaro che il termine comune non guadagna nessuna specificità nessuna forza da questa pretesa e del tutto vacua opposizione a pubblico il termine comune a me sembra diventa un sismografo di precisione rispetto al presente se lo si oppone intransigentemente alla nozione poco importa se filosofica o politica di universale lì sì che vi è una tensione che merita di essere apprezzata un percorso che va che va intrapreso con qualche decisione e qual è il termine complementare prima che mi soffermi per un momento solo sull'opposizione radicale fra ciò che è comune e ciò che è universale opposizione esclusiva se l'uno non l'altro se l'altro non l'uno qual è il termine complementare di comune il termine complementare senza il quale per altri versi il concetto di comune sarebbe monco o sciatto è quello di singolarità lì vi è un rapporto invece di implicazione reciproca se comune allora singolarità e singolarità solo a partire dalla nozione di comune qual è l'opposizione questo naturalmente vale anche per un altro concetto che ora come i gilet non si porta più o come certe gonne che tre anni fa andavano ancora ancora bene che adesso sarebbe disdicevole indossare quest'altro concetto è quello di moltitudine ora si porta comune una volta si portava moltitudine moltitudine che significa plebe classi subalterne i dannati della terra significa tutto e niente come infatti poi ha finito col significare a meno che non lo si opponga alla nozione di popolo e a tutta la tradizione politica e filosofica che sulla nozione di popolo ha trovato il proprio baricentro e non si intenda la complementarietà di moltitudine con intelligenza collettiva o intelletto generale come hanno cominciato a chiamarlo Averroè e Dante e poi per ultimo anche Marx nei frammento sulle macchine con general intellect complementarietà moltitudine intelletto sociale intelletto generale intelligenza collettiva opposizione fra moltitudine e popolo dopodiché voi potete dire anche anche a queste condizioni con queste precisazioni quel gilet non lo vogliamo portare più però almeno era un gilet se no era una pappa in forme era uno straccio per quello che riguarda noi possiamo intendere per universale una proprietà che insita in molti individui di una collezione di un insieme di una classe un certo numero di oggetti è rosso ognuno di quegli oggetti è rosso e diciamo che rosso è un predicato universale di quegli oggetti così come per così in fondo questo vale anche per il termine uomo la nozione di di comune invece si riferisce esclusivamente in contrasto con quella di universale a tutte quelle proprietà qualità che esistono unicamente nella relazione tra questi oggetti tra questi individui qualcosa che non si dà considerando ciascuno dei membri di quella classe o insieme considerato a sé stante la realtà del comune è una realtà di relazione la complementarietà con singolarità si può naturalmente sostenere che vi è una realtà comune frutto esclusivo delle relazioni che è l'insieme delle relazioni questo comune non è rintracciabile in ogni considerando un singolo membro di quella classe mettiamo anche un singolo membro dell'umanità un singolo essere umano un singolo vivente umano si può sostenere che questo insieme di relazioni questo fondo comune dell'esperienza che esso sia percettivo cognitivo emozionale passionale costituisce tuttavia un patrimonio condiviso o come appunto dice la parola comune con il quale però la singolarità non ha nulla a che vedere la singolarità deve aggiungere qualcosa al comune per esempio deve aggiungere una inflessione emotiva un tratto biografico un'attitudine dunque vi è questa realtà comune questo fondo comune dell'esperienza e poi a essa si aggiungerebbe quel clinamen quella deviazione quel di più che rende singolare un singolo io credo che sia del tutto sbagliato quello che andrebbe pensato e che comunque in qualche modo la tradizione del pensiero critico ha provato a pensare in questi anni è il modo in cui il singolare non si aggiunge al comune ma è una modulazione differenziata unica e ripetibile del comune non è una sorta di di ulteriore specificazione diciamo il singolare è il comune in atto così come per altri versi il comune è il singolare in potenza proprietà comune proprietà comune credo che sia un modo in parte provocatorio di sostenere che il cuore dei rapporti di proprietà e più in generale dei rapporti di produzione verta su qualcosa che sprigiona dalle relazioni dall'insieme di relazioni che dunque non può essere ricondotto sotto le categorie di predicati universali l'insieme delle relazioni vedete non è sempre mantiene sempre una lontananza una irriducibilità al predicato universale quale che esso sia alla categoria giuridica politica statale universale perché la categoria giuridica politica e anche filosofica non può che cogliere delle caratteristiche insite in ciascuno degli individui già costituiti laddove invece il comune è come la base il punto di partenza della loro singolarizzazione la relazione non trova un corrispettivo in alcuna categoria dell'universale dire proprietà comune significa dire che la riproduzione è materiale della vita i rapporti di produzione oggi vertono su comune vertono su l'insieme delle relazioni allora io proverei a dire poche cose in realtà non è una minaccia normalmente quando si dice poche cose poi arriva a fissare due punti come dobbiamo pensare il modo in cui il comune si presenta come la principale forza produttiva e il nocciolo della proprietà contemporanea e come dobbiamo pensare che attualmente prende corpo ciò che del comune è complementare cioè la singolarità questi due lati che sono connessi ma che sono per così dire e prendono anche una forma storicamente determinata dentro il capitalismo finanziario e dentro la crisi mondiale la forma il mo diciamo la modalità in cui la proprietà si presenta come proprietà comune o proprietà del comune io cercherò di trattarla con la categoria dell'appropriazione laddove invece la singolarità l'individuo individuato il proprio lui o il proprio lei che è complementare del comune che non si dà fuori del comune se non a partire dal comune io cercherò di trattarlo con la categoria beh categoria è dire troppo con la nozione con le parole di individuo proprietario intendendo per individuo proprietario quella particolare relazione con la propria esistenza per cui ci si considera proprietari in senso forte di se stessi delle proprie facoltà delle proprie attitudini del proprio tempo e si investe su se stessi o come si è detto tante volte in questi anni si diventa con una formula che merita di essere approfondita si diventa imprenditori di se stessi si investe la propria vita quindi una forma di proprietà minimale e radicale essere proprietari di se stessi come posso dire prendere in considerazione il proprio tempo spazio l'esperienza le doti gli incontri le relazioni come un bene economico per quello che riguarda la proprietà la forma di proprietà che riguarda il comune cioè la proprietà che si attaglia al comune vorrei far riferimento a un testo noto credo ad alcuni di voi forse a molti di voi che pur essendo insomma metabolizzato pur essendo non avendo non potendo essere spacciato per una new entry nell'orizzonte delle nostre discussioni forse merita di essere riletto rispetto alla questione della proprietà è un piccolo testo di Carl Schmidt in cui Carl Schmidt come spesso gli accade si guarda lo specchio e dice chi è il più Lenin del reame della borghesia capitalistica beh io e si prova a costruire ragionamenti e categorie che siano all'altezza di quello che verosimilmente riteneva l'unico altro grande pensatore politico come Lenin ha avuto i suoi Kautsky Schmidt aveva i suoi Kelsen e prova ad afferrare il nucleo duro della questione della proprietà il testo è tradotto nel libro nella raccolta categorie del politico è un breve testo che nella traduzione italiana presenta tre parole chiave appropriazione divisione o distribuzione e produzione con varie avvertenze sul fatto che i termini originali tedeschi hanno risonanze poco traducibili allora qual è il ragionamento di Schmidt da ricostruire per quel che ci serve laddove vogliamo parlare di proprietà comune Schmidt dice che in ogni ordinamento giuridico economico e sociale non mancano mai questi tre momenti quindi sono tre categorie di portata di filosofia della storia e di teoria della società e del diritto molto ampie il momento della appropriazione la divisione di ciò che è stato appropriato o distribuzione di ciò che è stato appropriato e il momento del terzo momento della produzione a partire dalla distribuzione di quanto precedentemente appropriato viene distribuito questo è lo afferma il Lenin della destra europea è l'essenza dell'ordinamento giuridico e sociale l'appropriazione in questo senso vi è un richiamo alle cose che venivano dette prima l'appropriazione è il momento celato dell'ordinamento giuridico e sociale qualcosa che è avvenuto ma che non lascia di sé traccia o memoria in qualche modo è l'equivalente di uno stato d'emergenza che non prevede una giustificazione giuridica né può a proposito del quale si possono inucleare precise procedure legislative appropriazione è la conquista è il bando in generale l'impossessarsi di territori e di terre incolte esiliare chi queste terre le possedeva per tradizione in modo da potersene appropriare un insieme di provvedimenti nessuno dei quali può assurgere al rango di ordinamento giuridico positivo un insieme di appropriazioni fattuali che costituiscono il momento genetico di ogni discussione sulla proprietà il problema maggiore appunto per Schmidt è l'ordine di successione di questi momenti come il pensiero sociale politico ha inteso la successione o anche la gerarchia interna a questi momenti appropriazione divisione distribuzione e produzione il socialismo europeo dell'ottocento in poi è stato il partito della distribuzione ha ignorato il momento dell'appropriazione e ha battuto a lungo il chiodo su una distribuzione più equa in alcuni casi come Fourier e il socialismo utopistico invece vi è stato una enfatizzazione del momento produttivo la crescita illimitata della produzione poteva permettere una distribuzione indefinitamente più equa e più giusta l'unico pensatore che ha rimesso al centro la questione dell'appropriazione per Schmidt è stato Marx allorché ha detto il passaggio vero quello che realmente conta non è una più equa distribuzione ma una nuova espropriazione appropriazione la formula poi diventata museale di espropriare gli espropriatori in questo espropriare gli espropriatori a proposito di forze produttive mezzi di produzione Schmidt vede riemergere per un momento la questione di solito scelata l'appropriazione primitiva quella che costituisce per così dire il presupposto celato né ricordato né giuridificabile di ogni questione a proposito della proprietà l'appropriazione non ha misura e non ha possibilità di essere fissata in legge queste tre e questo è il senso di questo breve scritto di Schmidt queste tre figure concomitanti coesistenti in cui però il primato logico spetta all'appropriazione costituiscono nel loro insieme quel che è stato tramandato con il termine nomos e per Schmidt uno dei misfatti della storia culturale europea è aver tradotto nomos con legge perdendo questa articolazione di momenti e questa caratteristica di ordinamento fondamentale che passa per appropriare dividere e produrre ora la questione che si pone Schmidt alla fine di questo scritto come spesso accade il bello arriva alla fine ma resta in sospeso e che si pone per noi è vero che l'appropriazione ha oggi cessato di esistere e che vi è ormai solo divisione e produzione e naturalmente il senso di questa domanda come accade nelle domande retoriche è forse oggi più che mai nonostante le apparenze quando si parla di proprietà bisognerebbe cominciare a parlare di appropriazione salvo individuare cosa vuol dire appropriazione quando contrariamente alla tradizione del bando dell'esilio della conquista della razzia dei pirati eccetera non si può parlare più di appropriazione di terre incolte l'ultima epopea politica dico per il pensiero politico di appropriazione delle terre incolte fu l'ovest americano con tutto quello che ha determinato nelle forme politiche di quel paese e anche in una sorta di crisi iniziale del capitalismo americano che doveva essere per così dire quello più libero da scorie europee da scorie di società tradizionali ma dopo di allora certo di appropriazione di terre incolte è difficile parlare se non nell'epopea colonialista che ha puntato a risolvere la questione sociale esattamente con una forma diretta diciamo atavica tradizionale di appropriazione ma per schmidt e per noi questo primato primato logico perché se no vi è come una sorta di coesistenza e di circolarità fra questi momenti questo primato dell'appropriazione a che cosa deve essere riferito che cosa non riguarda né la distribuzione e solo in modo mediato la produzione tutto ciò che noi oggi chiamiamo nell'organizzazione sociale e in particolare nei modi in cui riproduciamo la nostra esistenza materiale cioè rapporti di produzione tutto ciò che noi siamo disposti a chiamare comune oggi è il nucleo di una appropriazione che è molto difficile ricondurre alle categorie usuali di proprietà in questo senso il testo di schmidt e che per così dire naturalmente comune cooperazione sociale che è solo la traduzione di insieme di relazioni no ciò che esiste solo nella forma della cooperazione ciò che esiste solo nella forma di una cooperazione cognitivo-linguistica intelletto generale pensiero come bene comune dimensione impersonale dell'esperienza ciò che non si dà se non come condiviso tutto questo che attiene alla comunicazione alla produzione sociale non è noto non si presta a forme di proprietà giuridica di lungo termine in qualche modo solide capace di creare dei precedenti dei modelli e dei prototipi tutto ciò è appropriato ed è appropriato nella forma di quello che fu ancora nel primo novecento il colonialismo è colonizzato e appropriato laddove peraltro non può essere questa potenza produttiva questo bene comune questa risorsa di tutti e di nessuno in particolare esattamente come lo è il linguaggio privato non può nemmeno essere divisa cioè il secondo termine fondamentale dopo la conquista decisivo è dividere la terra in colta conquistata naturalmente è una decisione politica oltre che economico produttiva questa divisione letteralmente il comune può essere appropriato e usato sapete la cosa di Giorgio Agamben nell'altissima povertà che è un lavoro interessante con i monaci francescani che non sono proprietari ma usano qualcosa che e usano solamente un uso di fatto un uso che sfugge al diritto usano una ricchezza o comunque dei beni materiali che non che non che non sono imputabili a loro stessi di cui non tirano mai in possesso uso senza possesso bene l'uso senza diciamo così l'uso senza una forma di proprietà definita sembra essere la modalità della altissima come si dice qual è il contrario di povertà l'altissima opulenza del capitale finanziario e del sistema del credito è l'altissima opulenza che senza in realtà fissare in forme durature di proprietà procede per un'appropriazione dell'intelligenza collettiva della cooperazione del comune che ha la dimensione dell'uso appropriare vuol dire usare certo attingere selettivamente certo è un diritto di prelievo sul comune ma ha la forma esplicita dell'appropriazione senza che dia luogo poi a una divisione proprietaria stabile di questo comune appropriato e questo uso questa appropriazione che è uso ma uso senza divisione coincide con la produzione oggi contrariamente a Maurizio Lazzarato che ha scritto un panflet assai brillante di straordinario interesse sull'uomo indebitato ho qualche difficoltà lo dico perché Maurizio viene quindi consideratelo solo come un'anticipazione di cose che semmai avrò modo di dire anche a lui considero come posso dire che preda delle sue buone idee innamorato delle sue idee va oltre quello che è giusto nella costruzione di un discorso teorico vale a dire ritiene che il rapporto credito debito implichi come unica forma di lavoro il lavoro su di sé il lavoro sulla soggettività di costruzione della soggettività e che il rapporto credito debito l'uomo indebitato insomma come dimensione fondamentale in qualche modo abbia oltrepassato se addirittura non aveva già oltrepassato da sempre la dimensione della produzione mentre io ritengo che uno schema come quello appropriazione del comune tramite certo l'indebitamento tramite certo i meccanismi del credito tramite certo i meccanismi della crisi si dà come uso e appropriazione del comune in quanto questo uso e questa appropriazione sono immediatamente il modo di produrre di produrre ricchezza sociale non solo di lavorare su di sé e di modificare le forme della soggettività che pare essere un po' l'orto conchiuso in cui in alcuni punti del suo libro Maurizio chiude la faccenda prima di poter distribuire dividere il prodotto sociale lo Stato deve appropriarsene sia attraverso imposte e contributi sia mediante la distribuzione dei posti di lavoro sia con la svalutazione questa frase conclusiva di Schmidt dovrebbe a mio parere essere aggiornata solo dicendo che prima di non poter più dividere effettivamente perché si tratta di un bene il comune l'intelligenza collettiva la cui caratteristica principale è quella della sua indivisibilità cioè a essa è possibile l'accesso di tutti ma la divisibilità è cosa diversa dall'accesso quindi regolare l'accesso è da parte dell'appropriatore si chiami capitale finanziario credito quello che è è cosa del tutto diversa da procedere a una vera divisione l'appropriazione l'appropriazione del comune appropriazione che è uso del comune che è prelievo del comune passa a mio parere sotto un profilo storico culturale nel camuffare il comune da universale nel dargli ancora è sempre una veste da universale lo stato oggi se io dovesse definire una funzione non l'unica evidentemente poi ce ne sono altre almeno altrettanto importanti ma imminente diciamo un nucleo filosofico inconsapevole dello stato contemporaneo lungo le metamorfosi che abbiamo sotto gli occhi penserei soprattutto a questa sorta di traduzione costante dell'ambito relazionale proprio del comune in termini di categorie universali ed è anche così che avviene l'appropriazione che non dà luogo a divisione ma coincide immediatamente con un momento produttivo altro aspetto il secondo aspetto che volevo trattare vi è un blocco ovviamente nelle condizioni date fra comune e singolarità i due aspetti sono complementari diciamo ogni singolo che sia realmente tale e non sia un cittadino che va a votare quindi singolo certo ma nel senso di individuo atomico indistinguibile da tutti gli altri ogni singolo dotato di un effettivo grado di differenziazione di distinzione è singolo perché ha in sé aspetti unici irripetibili e aspetti impersonali perché contiene in sé certo una individuazione del comune ma anche quello che è del comune esiste in lui in forma impersonale e anonima io e sì io dico si dice questa compresenza nella soggettività è la prova provata della complementarietà fra comune e singolare ora questa compresenza è fonte di angoscia gli affetti e le emozioni mostrano come la compresenza all'interno dei soggetti umani dei viventi umani di comune singolarità non necessariamente trova una forma felice non necessariamente diventa un processo di singolarizzazione per cui il singolo è come una sorta di comune in atto unico irripetibile ma invece ci sono delle forme di blocco delle forme di blocco in cui quello che vi è di impersonale di comune sembra mangiar vivo la singolarità del singolo oppure al contrario vi è come una pretesa dell'individuo di assorbire come gonfiandosi dentro di sé tutto quello che del comune è tipico sono le due possibilità alternative in cui sotto forma di affetti emozioni e comportamenti vi è una crisi una difficoltà in questa relazione fondamentale fra comune e singolarità una di queste di queste strozzature che secondo me fa il paio con la forma attuale che prende il comune come risorsa economica da appropriare sempre di nuovo dell'accumulazione capitalistica è quella dell'individuo proprietario dell'individuo che si considera proprietario della propria vita e investe su di essa io credo che questo naturalmente non valga solo per alcune professioni per alcuni strati sociali ma che sia una sorta di relazione con la propria esistenza enormemente diffusa che si tratti di migranti che si tratti di precari i più mal ridotti che si possa immaginare quindi i o di lavoratori dell'industria culturale in ogni caso vi è come questa sorta di sdoppiamento fra l'esistente proprietario e l'esistenza di cui quel proprietario è proprietario questa proprietà assoluta ripeto tanto più come dicevo all'inizio residuale quanto però più radicale la proprietà della vita la proprietà della propria vita cosa che per certi versi naturalmente era insitaggiata nella nozione di forza lavoro quando metto sul mercato le mie facoltà cognitive linguistiche e fisico nervose già in questa posizione in qualche modo ascrivo a me un diritto di proprietà anche in senso fra l'altro giuridico lì sì in senso giuridico io sono realmente proprietario di una merce che ha un determinato valore che scambio in cambio di un certo prezzo più o meno equo già quella è un'attitudine di sdoppiamento significativa ma qui abbiamo qualcosa di più secondo me abbiamo qualcosa di più perché nell'individuo proprietario vi è come un riflesso e al tempo stesso una caricatura troce della relazione fra comune e singolarità cioè in qualche modo quello che vive nell'idea della propria vita come bene della propria vita come proprietà su cui investire è il senso del legame fra la propria singolarità e l'elemento comune non universale ma al tempo stesso da cui poi appunto passioni tristi angosciose ansiose una difficoltà a che questa relazione si proponga come una relazione beata come una relazione capace di adempimento io credo io credo che su questo punto ci dia un aiuto consistente l'autore a cui Marx ha dedicato più pagine in tutta la sua opera Marx ha dedicato molte pagine a Hegel molte pagine a Riccardo qualche pagina perfino aveva del tempo libero a Bakunin a molti autori a James Mill a Stuart Mill insomma ne ha avuti a Feuerbach ma le pagine che ha dedicato a questi autori anche messe insieme e non sono poche non si avvicinano neanche lontanamente alle quasi 400 pagine che ha dedicato a Marx Stirner voi sapete che quel testo sfuggito in parte alla critica roditrice dei topi perché era stato abbandonato dai due autori gli autori sono due in realtà Marx e Engels è quasi interamente dedicato all'unico e alla sua proprietà di Marx Stirner che peraltro il Lenin borghese cioè Carl Schmitt quando l'avevano messo in galera perché era stato un teorico del diritto nazista dice che era uno dei pochi che veniva a trovarlo in cella Stirner cioè uno dei pochi pensatori che riteneva importante che riteneva importante per capire la storia europea degli ultimi due secoli e in particolare il nichilismo comunque qual è perché Marx ecco è molto complicato dare anche solo qualche notizia utile al tema di cui ci occupiamo su Stirner ma perché Marx dedica tanto spazio perché è ossessionato da Stirner perché vede in Stirner una critica radicale dell'universale e questo glielo rende vicino di determinazioni universali come l'uomo che è la semplice sostituzione del Dio insomma come dimensione come categoria generalissima il genere la critica impietosa di Stirner a queste astrazioni fra cui naturalmente anche lo Stato i valori il bello il buono questa critica diciamo nominalistica condotta in nome dell'individuo singolo per Marx è particolarmente inquietante perché egli condivide la critica dell'universale ma la critica dell'universale fin da quegli anni l'aveva impostata in nome del comune l'aveva detto subito quello che conta della natura umana è l'insieme delle relazioni non la troverete mai osservando un singolo membro della specie quindi non la troverete né in quella strazione universalistica che è il genere umano e non la troverete nemmeno osservando solo Pietro la natura umana la trovate solo nel complesso di relazioni quello che esiste in forma di relazioni fra Pietro Giovanna Maria Paolo eccetera e via dicendo questo l'aveva detto subito e si trova di fronte un libro che critica l'universale sbarazzandosi al tempo stesso del comune e promuovendo una forma di individualità atomica intransigente nei confronti dell'universale per cosa dire ultranominalistica addirittura pagliacesca in questa sua furia nominalistica e di critica dell'universale e il problema di Marx naturalmente è criticare Stirner non in nome dell'universale la cui critica condivide in qualche modo sviluppa in forme anche più radicali ma in nome di questa strana dimensione intermedia intermedia finché si assume come decisiva la coppia universale particolare in realtà primigenia se si ritiene che la singolarità del singolo deriva dall'insieme delle relazioni e quindi dal comune quello è un problema di punto di vista teorico quindi il problema è per così dire mostrare che la critica dell'universale in nome dell'individuo atomico condotta intransigentemente e anche brillantemente da Stirner e deve essere confutata criticando ben inteso non difendendo l'universale ma criticando l'universale in nome del comune ora la cosa interessante è l'attitudine di Stirner a e per questo ed è questo poi l'occasione l'appiglio di come si chiamano delle non arringa il contrario insomma delle accuse di di Marx in qualche modo Stirner si propone di si propone di assorbire l'intero mondo delle relazioni nel gergo di questo incontro il comune all'interno del singolo per cui è questo che costituisce come proprietà del singolo come predicati del singolo questa sorta di riduzione del comune al singolare che era una delle due possibilità o la dimensione impersonale della mia vita che schiaccia quello che è tipico proprio unico e ripetibile o viceversa il tentativo di ridurre di assorbire la dimensione del comune dell'impersonale dentro l'io individuato questa seconda possibilità è percorso da Stirner il quale teorizza appunto l'individuo proprietario e nell'individuo proprietario Stirner disegna una figura sapete ontologia del presente Foucault era bravo io no altri di noi no ma Foucault per parlare dell'ontologia del presente abbiate pazienza prendeva dei pensatori francamente disinteressanti in quanto tali del secondo secolo dopo Cristo semmai però li riteneva utili a capire qualcosa che stava avvenendo proprio ora a costruire quelle che poi chiamano genealogie e via dicendo e ora io non è che proprio voglio dire che Stirner è uno strumento importante per cogliere questa singolarità scissa dal comune da cui pure proviene oppure questa singolarità che prova a riassorbire in sé il comune quasi gonfiandosi infiandosi a comprimerlo in sé e però qualcosa da dirci su tutto questo ce l'ha l'individualità propria include tutto ciò che è proprio ma l'individualità propria non ha alcuna misura estranea sto parlando e Stirner che scrive ovviamente sto parlando dell'individuo proprietario l'individuo proprietario si scaglia contro ogni forma di universale perché ogni forma di universale non coglie l'unico ma si riferisce all'essenza al concetto parla dell'amore dell'uomo quando si ama Pietro e non coglie quel che è di Pietro è proprio quel che è di Pietro e che è la pietrità di Pietro se Dio ci ha tormentato l'uomo è in grado di opprimerci in modo ancora più torturante l'uomo come concetto come concetto universale per dirla in breve il fatto che siamo uomini come genere è il meno che ci appartiene una sottovalutazione sistematica dell'io fin qui è un tipo di critica che è tornata più volte in filosofia la cosa importante è quando Stirner ed è questo secondo me che inquieta Marx e lo spinge a scrivere tre quattrocento pagine su quest'autore quando Stirner cerca di far rivivere la dimensione del comune la dimensione relazionale all'interno di questo io per così dire a inghiottirla come posso dirvi un meccanismo di comunofagia di introiezione del comune il singolo così come è la natura intera così anche è il genere intero il singolo si mette in rapporto con le sue facoltà e le sue emozioni come con una proprietà di cui è il possessore assoluto dice Stirner questo è il punto decisivo investe su se stesso non ha rifiuta quella sorta di espressione mite obliqua e alla fine derisoria che sono i diritti l'unico di Stirner in quanto proprietario proprietario delle sue facoltà che sono tutte le facoltà del genere che sono tutte le relazioni del genere non ha diritti ne ne chiede ha potenza e questa potenza la vuole fare valere sulla scena sociale e oggi questa figura dell'individuo proprietario come condensato come aspirapolvere del comune si presenta come l'altra faccia dell'imprenditore di se stesso se si prende sul serio l'espressione imprenditore di se stesso si presenta questo è quello che io credo come l'altra il pandan l'altra faccia del comune in quanto appropriato usato dall'altissima opulenza del capitale creditizio questa scissione fra quello che invece è complementare comune e singolare a queste due queste queste due figure per cui quando noi parliamo dei malanni della soggettività quando parliamo delle tonalità emotive del del lavoro dipendente del lavoro salariato del lavoro precario nel tempo nostro noi abbiamo a che fare con una singolarità che essendo scissa dal comune critica l'universale pensa di rappresentare tutto il comune dentro di sé come posso dire atomisticamente dall'altra parte una appropriazione del comune che in nessun modo dà luogo poi a forme stabili di divisione un'appropriazione senza divisione che comporta esclusivamente un uso ecco questo io credo che sia due polarità che mostrano proprio in quanto sono delle polarità come quello che si dà come complementare nel concetto e anche nel pensiero nell'esperienza oggi si presenta invece spezzato è in parte anche antagonista come curare l'individuo proprietario come curare la forma di terapia che è la politica che è l'azione collettiva e come concepire un una espropiazione della dell'espropiazione a proposito però non dei mezzi di produzione ma di questo comune che rappresenta il baricentro dell'economia contemporanea ecco queste mi pare delle domande aperte a cui volevo riferirmi grazie se siete d'accordo facciamo una piccola pausa 5-10 minuti e riprendiamo le domande grazie